direi che l'idea del mondo come patria è ciò che va solitamente sotto la definizione di cosmopolitismo il cosmopolitismo potrebbe anche essere definito come quel patriottismo che identifica la patria non con un territorio particolare a discapito di altri ma con il mondo intero ora questo sul piano territoriale potrebbe anche avere un senso più difficile invece è ammettere che il patriottismo cosmopolita in questo caso possa esistere sul piano dell'identità culturale stante il fatto che il mondo quando anche noi ci sentiamo appartenenti a ogni sua singola parte quindi ci sentiamo in patria tanto a roma come a pechino o a nuova york quando anche ammettiamo che sul piano territoriale sia così dobbiamo però riconoscere che sul piano delle culture e dell'identità non può essere così perché sono culture identità differenti e quindi diventa difficile ammettere un patriottismo cosmopolita di questo tipo certo cicerone poteva dire ad esempio nelle tusculane disputazione patria est ubicunque est bene la patria è ovunque vi sia il bene dovunque si stia bene anche potremmo tradurre quindi il cosmopolitismo in questo coincide è una tradizione diffusa nel nostro occidente no democrito di abdera diceva che il saggio per il saggio non c'è una patria precisa perché la patria di un'anima bella è il mondo intero e quindi abbiamo un'affermazione antelitteram di quello che oggi chiameremo cosmopolitismo ma anche la filosofia stoica ha sviluppato temi cosmopolitici antelitteram l'idea è che il saggio sia radicato in ogni parte del mondo l'idea è che in fondo l'umanità come casa come patria abbia il mondo intero questo però diventa problematico sul piano delle identità e delle tradizioni naturalmente perché in fondo l'idea della cosmopoli del mondo unificato ci riporta comunque a un crogiolo di identità plurali e culturali e come ci si fa a sentire ugualmente appartenenti a tutte forse si può essere appartenenti a tutte se non sia appartenenti a nessuna da un certo punto di vista e allora voglio evocare qui un testo che meriterebbe un'analisi a sé stante che è il testo di fichte il patriottismo e il suo opposto del 1807 in cui fichte dice attenzione l'opposto del patriottismo non è il cosmopolitismo o meglio sembrano due opposti ma in realtà il vero patriota è un cosmopolita proprio come il vero cosmopolita è un patriota perché dice fichte perché essere cittadini del mondo amare l'umanità significa in realtà essere cittadini di quella parte di mondo in cui siamo stati gettati con la nascita e amare l'umanità significa amare quella comunità particolare che abita con noi la patria e con la quale abbiamo quotidianamente a che fare sicché il vero cosmopolita è un patriota in realtà e allo stesso modo il vero patriota amando la sua patria e amando la sua comunità sta amando l'umanità quale si rispecchia in quella comunità e in quella patria particolare e quindi il rapporto fra cosmopolitismo e patriottismo viene da fichte ripensato in una maniera profondamente originale rispetto ai moduli che vedevano contrapposte le due le due questioni quindi ecco forse possiamo provare a stemperare questa conflittualità oggi dilagante fra cosmopolitismo e sovranismo si dice talvolta per usare formule molto radicali anche perché poi in realtà la realtà come diceva come si diceva nell'amleto ci sono molte più cose nella realtà che nella tua filosofia la realtà è molto più articolata perché anche quando si parla di patrie come senso di appartenenza e di identità anche all'interno di quella che si presenta ufficialmente come una patria ci possono essere dei movimenti patriottardi di liberazione e di affrancamento pensate il concetto di sovranismo ad esempio pochi forse ricordano questo fatto nasce dalle battaglie che la comunità francofona in canada fece per riconoscere l'indipendenza dell'area francofona quindi montreal che bec e quindi all'interno di una stessa patria si costituiscono movimenti di emancipazione di una parte di quella di quella patria quindi il concetto di comunità di identità di patria è molto più complesso di come appaia a tutta prima anzi possiamo dire forse che per certi versi il concetto di patria può essere non necessariamente legato a confini disegnati in maniera netta come talvolta si pensa e quindi è un concetto davvero da ricostruire da ripensare su basi nuove anche